Un cordiale benvenuto a Medical News, il Tg della salute di Medical Excellence TV. Una nuova speranza di trattamento per i pazienti affetti da rosacea arriva dall'approvazione di una nuova molecola che ha ricevuto dall'AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco, l'autorizzazione all'immissione in commercio con la pubblicazione in gazzetta ufficiale. La commercializzazione in Italia è prevista a partire da settembre. Il farmaco prodotto da Galderma è un trattamento topico a singola applicazione giornaliera indicato per le lesioni infiammatorie della rosacea di tipo papulo-pustolosa in pazienti adulti. Per questa tipologia di pazienti il farmaco ha dimostrato di avere proprietà antiparassitarie ed antinfiammatorie e rispetto ad altri trattamenti attualmente esistenti una rapida attività farmacologica ed una migliore efficacia. Cambiamo argomento, il cortisolo, il cosiddetto ormone dello stress, può ridurre la dipendenza da eroina. Almeno questo è quanto emerso da uno studio dell'Università di Basilea. In ricerche precedenti i ricercatori hanno scoperto che il cortisolo diminuisce la possibilità di recuperare i ricordi. In particolare l'assunzione dell'ormone dello stress ha ridotto la capacità del cervello di ricordare. Questo potrebbe ad esempio essere usato per alleviare i sintomi dei pazienti che soffrono di disturbi d'ansia inibendo la loro capacità di ricordare episodi ansiosi. I ricercatori hanno poi ipotizzato che il cortisolo possa avere un effetto inibitorio anche sulla memoria legata alla dipendenza e quindi anche il desiderio della sostanza che crea per l'appunto dipendenza. Voltiamo ancora a pagina per parlare stavolta di caffè che a quanto pare fa bene ma a patto che venga preso con moderazione e costantemente alle stesse dosi. E questo è il risultato di uno studio condotto dai ricercatori dell'Università di Bari al Domoro e dell'IRCS Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni e dell'Istituto Superiore di Sanità di Roma. I ricercatori hanno analizzato e messo in correlazione tra loro la comparsa di segni di decatimento cognitivo lieve condizione considerata prodromica della malattia di Alzheimer ed il consumo del caffè su un campione di quasi 1500 persone di età compresa tra i 64 e gli 84 anni. Dai risultati è emerso che le persone che avevano mantenuto costante il loro modo di consumare il caffè e una tazza al giorno avevano meno rischi di incorrere nel decatimento cognitivo lieve rispetto agli altri che avevano modificato le loro abitudini oppure consumavano più o meno caffè. In particolare è emerso che gli individui cognitivamente normali più anziani che hanno modificato le loro abitudini aumentando con il tempo la loro quantità di consumo di caffè avevano circa due volte più alto il tasso di decadimento cognitivo lieve rispetto a quelli con abitudini ridotte come ad esempio meno di una tazza di caffè al giorno. C'è un legame molto stretto tra i disturbi del sonno e l'autolesionismo nei ragazzi ha a rilevarlo un gruppo di ricercatori dell'Università di Bergen in Norvegia secondo lo studio che ha riguardato oltre 10.000 adolescenti norvegesi con età compresa tra i 16 e i 19 anni circa il 7,2% del campione esaminato ha segnalato problemi legati all'autolesionismo e tra questi più della metà, vale a dire il 55% ha segnalato due o più episodi di lesioni autoinflitte. Le più a rischio sono le ragazze. Dallo studio è emerso che i giovani cui erano associati anche forme di disturbi del sonno come insonnia sono quattro volte più a rischio rispetto agli altri. Siamo all'ultima notizia, in un futuro neanche troppo lontano al posto degli esercizi fisici potremmo assumere una semplice pillola sarà lei infatti ad incaricarsi di innescare quei salubri effetti benefici che altrimenti sono indotti dall'attività fisica sull'organismo. Ne sono convinti alcuni ricercatori dell'università inglese di Southampton che hanno messo a punto una molecola chiamata composto 14 che potrebbe essere usata nella terapia contro il diabete o l'obesità. La nuova molecola inibisce la funzione di un particolare enzima che a sua volta è coinvolto nel metabolismo attraverso la produzione di una molecola che induce le cellule ad essere affamate e ad aumentare il loro assorbimento di glucosio. Nei primi test incoraggianti la molecola è stata somministrata a due gruppi di topi. Siamo in chiusura, grazie per aver scelto Medical Excellence TV vi ricordiamo che il Tg della Salute torna domani con una nuova edizione nel frattempo continuate a seguire questi ed altri programmi sul nostro portale di Benessere e Salute all'indirizzo che vedete alle mie spalle. Arrivederci